Musica Mi trovo qui nell'ospediatore della Curva Bureio, qui con me c'è Massimiliano Carletto e Brizzi Lorenzo Bravo Iniziamo subito la presentazione della squadra e questa è una squadra nuova Quindi presentazione brevemente Siamo una squadra giovane, tutti minorenni, no non è vero, però siamo tutti piccoli anche fisicamente Ma vogliamo dare il nostro in campionato, ci sentiamo pronti per darlo No? Non credi? Io credo tantissimo a questa squadra, credo che siamo una squadra ad alto livello E possiamo sicuramente ambire a un posto molto alto Un previ riassunto della partita di oggi? È iniziata parecchio male direi, perché la squadra avversaria è in vantaggio 2-0 Poi vabbè sono entrato io, doppietta subito Sono il bomber ma nessuno vi vuole mettere punta, però ho dimostrato che sono io il bomber Concordo Un breve commento in positivo sui avversari Eh, gli avversari hanno giocato bene, secondo tempo sono addormentati Forse all'età, troppo vecchi per giocare Ok, grazie, grazie per la disponibilità Noi lo salutiamo